Da domani si preannunciano disagi per la circolazione a caso della Polizia delle Caritoie a sottopasso di Battipaglia. L'amministrazione guidata dalla Sindaca Cecilia Francese ha disposto infatti la chiusura per due notti del sottopasso ferrofiario di via Rosaiemma a Battipaglia. L'ordinanza dispone il divido del transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 22 di martedì 11 settembre alle ore 6 di mercoledì 12 settembre ed ancora dalle ore 22 di mercoledì 12 settembre alle ore 5 di giovedì 13 settembre quando la prevista Polizia delle Caritoie stradali da parte degli operatori di Alba e SRL dovrebbe concludersi.